Lo sport è fatto di tante storie. La televisione è una di queste. Sky Sport è quello che vuoi vedere in tv. È un'altra storia. È un'emozione da vivere giorno dopo giorno, tutti insieme. Anche dopo tanti anni ci sono delle cose che un po' ancora ci commovono sempre. Io non so il vostro, il mio cuore batte forte. Benvenuti a Sky Calcio Show e non vedevamo l'ora di cominciare. Sky Calcio Show, primo appuntamento stagionale. Sky oggi, scusate l'emozione, parte una nuova avventura. Benvenuti alla prima puntata di Race Anatomy. Benvenuti in Champions League, in questo studio che si apre. Non vi abbiamo fatto perdere nulla. Si sono visti tutti gli sport, tutti i record, tutte le gioie, tutte le delusioni. Insomma, si è visto proprio tutto. Ebbene, questa magica atmosfera l'abbiamo vissuta. Io sono un uomo di sport. Io conosco i pensieri che attraversano le vostre menti. Le paure che dovete vincere. Io so cosa significa vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze. Io so cosa significa avere un sogno comune e trovarsi a un passo da realizzarlo. Ci sono delle immagini che da sole raccontano la leggenda del calcio. Il calcio è questa roba qua. Il calcio è questa roba qua. Goal! Goal! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Pizzaghi! 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 La settima coppa dei campioni della squadra rossonea. Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, Alex del Piero! I grandi campioni si vedono nei momenti speciali. La nuova campionezza olifica. E di terra, guarda che è il cielo con un dito. Kimi Raikkonen è campione del mondo. Un mostro! È un mostro! Pizzaghi! Pizzaghi! Fenomenale! Fenomenale! È il medaglio d'oro! È il medaglio d'oro! Non è possibile! La storia è lì! La storia è lì! Il più incredibile finale di sempre! È successo l'incredibile! L'incredibile! Extraordinario! Vola! Vola! Emozioni infinite! Sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento! Perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni! Siamo grandi! Siamo grandi! Siamo grandi! Dieci anni sono molto lunghi. O forse no. Se questi anni passano nel racconto e nei valori di quello che si è saputo fare proprio nel nome dello sport.